Cari amici del canale, siamo a Bournemouth, è una cittadina sul mare, sulla manica, e adesso sto per lasciarla. Abbiamo dormito in un albergo che non vi consiglio, adesso vi faccio vedere. È il famosissimo Laguna Hotel. Questo albergo che ha la caratteristica di avere una piscina indoor, quella a zoom, non voglio neanche avvicinarmi. E quella roba l'ha. Quindi questo è il Laguna Hotel. Dice di avere tre stelle, ma le stanze facevano schifo. Le stanze facevano schifo, abbiamo speso ben 130 sterline per una camera con due letti singoli. Guardate, non vi ho fatto il video, le foto del... Il bagno era una roba, col water che si muoveva, che ballava. Il mobiglio, le robe degli anni 60. Moquette, la solita, probabilmente sporchissima. I letti che ballavano. Luca, parlaci del Laguna Hotel. Come l'hai trovato? Ma... Molto interessante, molto bello. Ci torneresti? Guarda, sì. Soprattutto nei loro cessi, perché, insomma, è stato bellissimo quando uno deve sedersi e liberarsi. C'ha, come dire, c'ha quell'instabilità in più che ti fa prendere quella paura necessaria per liberarti in fretta. Però potresti avere l'effetto opposto, potrebbe stringere lo sforzo. Lì dipende da te. E quindi magari poi non ti liberi più. Ci devi mettere del tuo. Se hai l'ansia... Loro cerca di darti... Sai che c'è? L'ecoansia potrebbe esserci anche l'ansia da terremoto mentre sei seduto sul cesso. Sì, quell'instabilità emotiva che uno sente nel sedersi e uno diventa costipato. E quindi poi non te la tieni tutto il giorno. Poi comunque questo bel tempo, quella all'interno... La piscina è bella, secondo me è la perla, la piscina. Ma poi questi mattoni rossi che non si sono mai visti in Inghilterra e quindi... Ah beh, questa è l'architettura classica inglese che non è il problema. Forse solo quello. Quello è normale. Il clima? Il clima è più vigile. Il clima è meraviglioso. Siamo fine giugno, più vigile. Sì, sembriamo ad ottobre da noi. E poi una cosa bellissima, Aristotele, è che è a buon mercato. È vero, il prezzo era molto buono. Per loro era molto buono. Vabbè, finiamola qua. Bournemouth. Arrivederci, ciao.